qui con noi in studio c'è Carlo Ratto ciao, buonasera a tutti la possibilità di firmare due mie canzoni in collaborazione Black God, il suo nome e quindi ho avuto il privilegio di poter far parte di quella che è la famiglia della Reveale Recordings di Hardwell che possiamo dire tranquillamente il sogno di una vita arrivare all'etichetta di Hardwell diciamo che è una realizzazione il 2018 settembre è dove è cominciata proprio appunto la tua, diciamo, esplosione possiamo così dire vera e propria crescita sì, questo diciamo è il disco che cambia la storia la mia storia a livello come produttore certo e quindi insomma è sempre emozionante poterlo sentire un singolo è figlio anche di una corrente che in quel periodo stai studiando stai sperimentando sì, io diciamo che lì ho sempre cercato di fare musica seguendo il cuore perché credo che è fondamentale mettersi a fare quello che a te piace prima di tutto bisogna divertirsi e per divertirsi in studio devi fare una cosa che ti piace a prescindere da qualunque genere poi uno scelga di fare quando vedi poi che entrano anche magari in Spotify, in alcune chart deve essere... sì, lì capisci veramente che stai costruendo le basi per qualcosa di importante ma com'è, ti arriva tipo la notifica? sì, diciamo che ci sono degli applicativi che lì ti permettono di avere e di ricevere quelle che sono le notifiche inerenti a l'artista che ti ha suonato il brano piuttosto che l'inserimento in una delle play-digi di Spotify a presto 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 a presto